Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la risoluzione della Commissione Sanità recante indirizzi sui principali obiettivi delle politiche per la salute della Toscana. A seguito della consultazione pubblica degli Stati Generali della Salute, l'atto di indirizzo è stato approvato con 23 voti a favore Partito Democratico e Italia Viva e 15 voti contrari Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. In aula accolti anche 16 emendamenti presentati dal Partito Democratico all'interno della Commissione Sanità. Emergono tanti aspetti, noi abbiamo fatto un'analisi a 360 gradi e quindi è riguardato intanto dei macro temi che sono le risorse e la necessità di personale sanitario adeguato, formato, motivato che sono le due precondizioni per svolgere tutta l'attività. Poi la grande attenzione da dedicare al tema della prevenzione di tutti i determinanti della salute che sono l'elemento sui quali si baserà anche la sostenibilità in futuro del servizio sanitario regionale. Poi ci siamo concentrati sul tema della governance, dopo dal 2015 c'è stata la riforma e quindi abbiamo rivalutato analizzando i dati come hanno funzionato le reti cliniche nell'ambito delle tre aziende sanitarie, evidenziando però la necessità di rafforzare il territorio disponendo l'obbligatorietà della società della salute in ogni zona distretto della Toscana e rafforzando dal punto di vista personale e di risorse. Poi ovviamente la questione è riguardata anche la non autosufficienza, il tema della disabilità e l'emergenza urgenza dove bisogna omogeneizzare sostanzialmente il servizio in Toscana e poi tutto il tema della riorganizzazione del territorio che con il PNRR richiederà forse la sfida più importante dei prossimi anni. Ovviamente la mozione riguarda un po' tutti gli aspetti, poi anche per quanto riguarda l'innovazione digitale come elemento essenziale e trasversale sul quale investire molto nei prossimi anni e a partire da un'immediata presa di interoperabilità dei sistemi a l'innovazione che nei prossimi anni porterà addirittura anche da un punto di vista medio sempre più verso una medicina personalizzata. Ovviamente quando si parla di salute gli aspetti sono tantissimi, li abbiamo riassunti in questa risoluzione che impegna anche il Consiglio e la Giunta nei prossimi mesi a una serie di azioni tra i quali la revisione della legge 40, il nuovo piano sociosanitario regionale, quella che riguarda una revisione complessiva degli enti di garanzia come il governo clinico e l'agenzia regionale di sanità. Tutte le liste d'attesa diciamo però che c'è bisogno di rafforzare l'attenzione non solo sull'aumento delle prestazioni ma anche sul governo della domanda, cioè se abbiamo visto ci sono i sistemi dove si è più riuscito a battere le liste d'attesa sono quelli nei quali è stata fatta un'analisi direi ingegneristica di quelle che sono le prescrizioni mediche per ogni tipologia di prestazione e il sistema ha fornito quella quantità di prestazione, quindi le liste d'attesa in quel caso si formano solo se c'è per una serie di motivi come è stato per esempio il Covid sulle visite cardiologiche che ha generato un'iper prescrizione, allora è evidente lì si crea la lista d'attesa, però se non in maniera ordinaria quelli che hanno fatto a questa maniera in Toscana sono riusciti a governare, mentre laddove l'attenzione sulla prescrizione è stata più bassa le liste d'attesa si sono formate in maniera più significativa e è stato più difficile a battere. Tera via sostiene il documento degli stati generali della salute, un lavoro buono di ascolto che ha portato a confrontare il consiglio regionale con tanti operatori del sistema sanitario per dimostrare che la riforma fatta nel 2015 è una riforma giusta, fu molto combattuta, io allora ero presidente della commissione sanità, un lavoro straordinario che ha messo in sicurezza l'organizzazione del sistema sanitario toscano lo conferma ai vertici dei livelli nazionali come modalità organizzativa grazie anche ovviamente alla qualità dei propri operatori e professionisti ma soprattutto dimostra quando la politica fa scelte coraggiosi e diventano lungimiranti, queste poi portano dei risultati positivi, l'abbiamo visto sotto il Covid adesso c'è da riorganizzare il sistema ulteriormente, da migliorarlo rispetto alle risposte nuove che questa pandemia ha fatto emergere, nello stesso tempo c'è una consapevolezza che le risorse servono e da lì c'è un tema che noi abbiamo sempre posto, fosse stato per noi avremmo avuto anche le risorse del MES se si va a vedere oggi i tassi di interesse che livelli avranno, non soltanto adesso ma nei prossimi anni avremmo dimostrato che quelle risorse praticamente le avremmo avuto in maniera gratuita e quindi questo è un po' il rimpianto di oltre 30 miliardi in più che la sanità avrebbe avuto e è accascata anche la regione toscana, detto questo le risorse ci sono, arriveranno investimenti serve personale però intanto una risposta importante l'abbiamo data Sì, noi voteremo contro la proposta del Partito Democratico perché la sanità è uno degli esempi peggiori del malgoverno della sinistra in questi anni in Toscana, non ci limitiamo a votare contro presentiamo le nostre proposte per una sanità differente che faranno parte del nostro programma di governo da qui ai prossimi anni, noi riteniamo che la sanità toscana abbia bisogno di migliore efficienza di una struttura differente, non soltanto di più soldi, se è vero come è vero che per un'ernia inguinale a Careggi si aspettano 208 giorni, a Torregalli a 3 km di distanza 103, non c'è bisogno soltanto di più soldi c'è bisogno di maggiore efficienza e di un'organizzazione migliore del sistema, se è vero come è vero che a Pontedera per una protesi d'anca si attendono 278 giorni ma solamente 20 al San Giuseppe a Empoli che è a 30 km di distanza, se è vero come è vero che al San Giuseppe si attendono 6 giorni per gli interventi di tumore al colon e a Grosseto se ne attendono oltre 40, quindi c'è bisogno di più efficienza, non soltanto di più soldi, c'è bisogno di più medici e da questo punto di vista noi chiediamo che vengano inseriti nel servizio sanitario anche i medici laureati e gli specializzanti ancora prima delle specializzazioni, chiediamo che si possano finanziare maggiore borse di specializzazione perché sapete che sono molti più i medici che si laureano di quelli che hanno accesso alle specializzazioni che sono necessarie per entrare a lavorare. La Toscana finanza soltanto 34 borse di specializzazione nel 2021, sono troppe poche, i soldi vanno spesi soprattutto lì. Serve un quadro normativo regolatorio delle case di comunità, delle case di salute perché non è possibile che tutte le persone vadano all'ospedale o al pronto soccorso, ci devono essere dei punti di accesso intermedi ma in quei punti di accesso, per esempio le case di comunità, si deve trovare gli ambulatori, dei medici di famiglia, dei pediatri, degli specialisti, si deve trovare dei punti di primo soccorso, uno sportello farmaceutico, una diagnostica di base e se non si può lasciare tutto al caso come è stato ahimè lasciato in questi anni. Quindi noi riteniamo che ci voglia una sanità con più soldi sicuramente ma una sanità governata meglio e diversamente da come è stata governata fino ad oggi. L'impianto è stato a livello generale positivo, però ovviamente io ho fatto un esempio a Gianni per richiamare perché abbiamo presentato una nostra risoluzione. Picasso ha due periodi importanti, il periodo rosa e il periodo azzurro e l'arlecchino è in tutte e due, ma sono completamente diversi, per cui la nostra risoluzione che non ci viene permesso di presentarla viene eliminata perché dice è sovrapponibile all'altra, ma si basa su degli architravi completamente diversi perché noi vogliamo tre, anziché le tre asle vogliamo le asle provinciali. Noi vogliamo che il direttore generale non sia nominato dal presidente Gianni ma sia una concertazione con i territori, quindi con i sindaci, con le società della salute, con la conferenza dei sindaci. Noi vogliamo che il CUP sia rivoluzionato perché ci devono essere due agende, una di primo accesso che a un certo momento viene preso in carico dai reparti, l'altra sarebbe un'accettazione da parte dei reparti, quindi una volta che uno è dentro il sistema viene in qualche modo gestito dai reparti, quindi non è più una lista di attesa ma è una programmazione a lungo termine. Non siamo d'accordo perché le SDS possono essere giuste se ci fosse una governance diversa. Per esempio nel mio territorio, Grosseto, 80 mila abitanti, conta zero perché il sindaco non ha nessuna partecipazione né di tipo di giunta, cioè non è il presidente, non può decidere per il direttore della SDS e quindi forse meglio fare una convenzione diretta con l'Asne. Sicuramente la Commissione ha fatto un lavoro quanto mai opportuno, nel momento in cui ci si approccia comunque ad intervenire sugli aspetti più critici della sanità toscana, hanno voluto fare una fotografia e quindi dare poi degli indirizzi alla Giunta. È chiaro che è un tema assolutamente complesso sul quale però ci sono alcuni aspetti che meritano di essere rilevati. Anzitutto il concetto di prevenzione, un concetto di prevenzione che è assolutamente condivisibile. Più si previene, quindi più si favoriscono anche forme di educazione, stili di vita, consumi consapevoli, meno si accede al servizio sanitario e questo deve essere l'obiettivo perché il servizio sanitario è comunque sia un costo per l'utenza. È chiaro che ci sono altri aspetti poi, la questione ad esempio delle aree interne. Noi abbiamo una Toscana che presenta forti differenze anche rispetto ai servizi sanitari. È chiaro che di fronte a una popolazione che invecchia, che quindi ha necessità di avere determinati servizi quanto più possibili di prossimità, dall'altro però non possiamo anche pensare di sacrificare famiglie che molto spesso vivono in aree fuori dal territorio urbanizzato ma che molto spesso scontano ad esempio l'insufficienza di servizi pediatrici. Noi abbiamo in Toscana una media di mille bambini a pediatra nelle aree della provincia e questo non è assolutamente accettabile. Quindi io mi auguro che anche le nuove strutture che dovrebbero arrivare con il PNRR quantomeno siano calibrate su ambiti di servizio ottimali per far sì che effettivamente ci sia un bacino di utenza sufficiente a giustificare quel tipo di investimento. Su questo io mi aspetto ci siano delle risposte forti da parte anche dell'assessore. È stato un lavoro di un anno intenso e che finalmente ha visto tutti i contributi degli operatori della sanità che hanno affrontato questi due difficili anni di pandemia ma quello che ne possiamo adesso trarre è una proposta di risoluzione che ovviamente è stata declinata nella visione della maggioranza che governa questa regione che noi definiremo estremamente tiepida e tardiva per tanti punti di vista. Tiepida perché gli impegni che si sono assunti sono estremamente generici in alcuni casi. Mancano di quegli indicatori che secondo noi sono fondamentali. Molti vengono definiti dal MES che è l'organismo, il soggetto che ogni anno esprime un giudizio sulla qualità del sistema sanitario toscano. Però per molti altri rimane un'evanescenza delle proposte, degli impegni e la tardività perché molti di questi impegni che adesso sono stati presi all'interno di questa risoluzione sono derivati fondamentalmente da quelle che sono state le proposte che anche il Movimento 5 Stelle ha fatto nella scorsa legislatura e soprattutto manca un'ammissione di errori fondamentali che negli ultimi anni grazie anzi a causa dei tagli lineari che sono stati fatti in molti settori coperti come razionalizzazioni hanno sofferto moltissimi settori della sanità. La sanità territoriale, le liste di attesa che invece avevano ricevuto un contributo dal Governo con la Ministra Grillo, i posti letto che sono stati anche quelli tagliati. Insomma una sanità che se oggi soffre più del necessario e non è più all'altezza della Toscana Felix di un tempo è colpa anche di alcune scelte che sono state fatte in passato come quella delle Maxi Asle più volte criticate su cui mai e dico mai si è tornati indietro nemmeno in questa proposta di risoluzione. Guardi occorre a snellire le liste d'attesa immediatamente, dare la possibilità ai cittadini di essere curati in tempi certi, fare una convenzione col privato immediata per snellire tutte le liste d'attesa, occorre potenziare, lo ripeto, potenziare la sanità territoriale, le case della salute, potenziare far diagnostica lì dentro, fare una riforma del 118 vera non come quella che è stata fatta sacrificando i tanti medici e i tanti infermieri ai quali va il nostro ringraziamento perché hanno passato due anni a sostenere la sanità italiana in particolare la sanità toscana, poter far diagnostica all'interno le case della salute e finalmente premiare il merito. Basta con coloro che fanno carriera perché hanno una testa di partito in tasca, noi vogliamo primari e medici bravi e che meritino il loro posto. Noi pensiamo che debba essere fatta una riforma seria del sistema sanitario a partire anche dalla riforma dei medici di base che dia una risposta immediata ai tanti bisogni. Usciamo da due anni difficilissimi dove anche le richieste di diagnostica sono aumentate, in particolare il 40% sulle visite cardiologiche, non si riesce a prenotare. Il CUP non funziona, ecco i disservizi della sanità dove noi come regione ci mettiamo 8 miliardi di euro, fronte di quegli 8 miliardi di euro noi vogliamo un sistema sanitario che funzioni.